Ciao a tutti, in questo video voglio dare l'annuncio dell'inizio del 23esimo concorso di Player2Lighting il cui tema è 50 mm. Per partecipare a questo concorso dovrete inviare una fotografia scattata durante questo mese utilizzando un obiettivo focale fissa 50 mm. La scadenza per il concorso è il 31 maggio quindi fino al 31 maggio potete scattare la vostra fotografia, non ci sono restrizioni sul genere di fotografia né tantomeno sulla marca dell'obiettivo che utilizzate e potete scattare con qualsiasi macchina fotografica che utilizzi qualsiasi sensore quindi va bene scattare in full frame, in APS-C, in micro 4 terzi e c'è anche chi ha già proposto di scattare in medio formato. Tutte queste varianti vanno bene, l'importante è in fase di post-produzione di non applicare dei ritagli troppo esagerati quindi va bene raddrizzare leggermente la fotografia o eliminare qualche dettaglio sul bordo ma il ritaglio deve rimanere quasi uguale a quello originale e soprattutto il rapporto tra altezza e larghezza deve essere quello nativo della macchina fotografica. Tutto questo perché l'idea di fondo di questo concorso, come gli ultimi che ho organizzato, è didattica quindi non solo voglio che scattiate e partecipate al concorso per divertimento ma mi interessa anche che questi concorsi servano un po' a farci esercitare su alcuni aspetti della fotografia e in questo caso sarà sul capire le potenzialità di questo tipo di obiettivi che vengono di solito consigliati a chi si sta avvicinando alla fotografia. Il 50 mm, soprattutto nella variante f1.8, viene molto spesso consigliato per diversi fattori. Il primo è il prezzo, visto che a f1.8 il prezzo si aggira sui 100 euro, 120 euro sia per Canon che per Nikon e anche per le altre marche di macchine fotografiche. Inoltre con l'arrivo di produttori cinesi come la Yongnuo è possibile trovarli anche sui 50-60 euro degli obiettivi 50 mm f1.8 che si comportano molto bene. Se non avete ancora 50 mm vi consiglio di acquistarlo a prescindere dal concorso visto che sono degli obiettivi molto comodi e potete sia valutare gli acquisti di obiettivi e delle marche originali sia i produttori cinesi potete vedere sul mercato dell'usato o anche sul mercato vintage. Per avere idee e consigli sul mercato vintage vi consiglio di consultare il forum di player due lighting dove ci sono degli utenti molto più esperti di me che vi possono guidare sull'acquisto giusto. Il 50 mm oltre al prezzo è un obiettivo che viene spesso consigliato visto che è molto luminoso quindi anche a f1.8 ci permette di avere una profondità di campo stretta con cui possiamo sfocare molto lo sfondo delle nostre fotografie e questa è una cosa che torna molto utile nella ritrattistica o nella fotografia di oggetti e inoltre il fatto di essere luminoso ci permette di scattare anche con poca luce quindi per esempio all'esterno di notte in giro per la città. Inoltre 50 mm come lunghezza focale sua full frame è molto adatta ai ritratti anche diciamo a figura intera mentre andando verso 85 mm quando tra i 70 e gli 80 mm su APS-C in base al produttore della macchina fotografica diciamo 70-80 mm sono lunghezze focali ancora più adatte per piani più ravvicinati nella ritrattistica quindi è un obiettivo un po' tuttofare con cui possiamo scattare ritratti, fotografie a oggetti, fotografie naturalistiche in giro per quando andiamo per delle gite possiamo scattare anche della street photography anche se la lunghezza focale forse è un po' stretta o possiamo anche scattare dei paesaggi quindi in questo concorso potrete sbizzarrirvi come tipologia di fotografie l'importante è che vi allenate con il 50 mm dove non abbiamo una ghiera dello zoom ma dobbiamo andare avanti e indietro noi con le gambe per trovare la composizione ideale che anche questo è un ottimo esercizio per allenare anche l'occhio e la mente alle diverse composizioni quindi una cosa che mi resta di dire è che per i primi tre classificati c'è un piccolo premio di buoni di acquisti su Amazon.it quindi è un piccolo incentivo aggiuntivo oltre che a imparare a divertirsi c'è anche questo piccolo premio non mi resta che aspettare le vostre fotografie e augurarvi in bocca al lupo a chi sarà il vincitore per il resto, piccole notizie lampo su player 2 lighting nelle ultime settimane ho un po' avuto da fare soprattutto con il lavoro non sono riuscito a fare nuovi video ma già in questi giorni mi sto organizzando per continuare il corso di Adobe Lightroom e a breve farò anche due nuovi inventari uno su un'attrezzatura che utilizzo molto spesso da alcuni anni e un altro inventario sarà su un nuovo flash che mi stanno inviando in prova e quindi scopriremo se è un flash che può tornare utile per la fotografia vi ringrazio per aver visto anche questo video e ci vediamo ai prossimi a presto